Prima notte in carcere per Francesco Di Rocco, il 49enne ancora studente universitario iscritto a veterinaria che lunedì sera ha aggredito e accoltellato mortalmente il padre di 83 anni al termine di una lite avvenuta nell'abitazione all'interno della stazione di Teramo. Questa mattina c'è stata l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice Marco Procaccini e l'avvocato Federica Benguardato. Sì, sì, ha risposto a tutte le domande. Come sta lui? Oddio, oggi mi ha detto una cosa che mi ha veramente lasciato senza parole. Mi ha detto, perché io gli ho chiesto come si trovasse, lui mi ha detto che si è trovato bene e non ha mai socializzato così tanto in vita sua. Ha ripercorso un pochettino quello che è successo lunedì sera? Sì, sì, giustamente nel rispondere alle domande ha ricostruito tutto il fatto. Ovviamente quando avevamo fatto l'interrogatorio il padre non era ancora deceduto, quindi oggi l'imputazione era proprio per l'omicidio, non più per il tentato omicidio. Lui però ha tenuto a precisare che assolutamente non era affatto sua intenzione ucciderlo e quindi questo ovviamente è molto dispiaciuto di questo fatto. Le persone che conoscono Francesco hanno ricordato le frequenti liti tra padre e figlio e le camminate nervose su e giù davanti alla stazione imprecando e chiamando il padre Hitler. La vittima, Mario Di Rocco, 83 anni, dopo una vita vissuta nella città in cui per il lavoro di capostazione si era trasferito dal sud Italia, una volta andato in pensione aveva deciso di chiedere alle ferrovie dello Stato di restare in affitto in quella casa. Da qualche anno i due erano rimasti da soli dopo la morte della moglie dell'ex capostazione. Non è escluso che il legale Federica Benguardato possa chiedere per il suo assistito la perizia psichiatrica. Sì, ne ho parlato con lui più che altro per capire il suo stato emotivo, il suo stato di intendere e di volere proprio al momento del fatto, che è questo che mi preme. perché sicuramente anche oggi lui ha spiegato tutto ciò che ha portato a questo gesto estremo, cioè tutta una serie di situazioni e poi il caso è appunto il fatto che sia avvenuta comunque questa lite all'interno della cucina e che lui si trovasse proprio di fronte a questo coltello. Ha spiegato che quando ha preso questo coltello ha preso questo coltello arrotondato e non voleva infatti infierire nell'ucciderlo, però purtroppo poi è accaduto questo. Quindi anche per ricostruire questo fatto, ma soprattutto perché, ripeto, lui oggi mi ha detto due cose che mi hanno veramente lasciato perplessa. La prima è che comunque è la prima volta che ha socializzato con qualcuno e che quindi, perché questo non gli succedeva mai, perché dentro casa la mattina quando si svegliava non c'era nemmeno il buongiorno con il padre, non c'era un minimo di dialogo. E poi un'altra cosa anche che mi ha detto che comunque la sua vita non è che cambia, perché la sua vita non la può cambiare e certo è cambiata in peggio perché adesso non c'è il padre e sicuramente da una parte questo padre non continuerà in quell'atteggiamento aggressivo, dittatoriale che aveva, però questo non porterà a un miglioramento della sua vita perché comunque non era quello che voleva. Per domani è prevista l'autopsia affidata al medico legale Christian Dovidio per mettere i primi punti fermi a cominciare dal numero delle coltellate.